Qualcosa non ha funzionato, non ha funzionato sicuramente nella composizione di questa squadra di governo ma anche nel coordinamento che il partito a livello regionale avrebbe dovuto fare per arrivare a una quadratura che fosse più rappresentativa. Ad aggravare questa situazione il fatto che vi sono dei territori che invece sono sovra rappresentati, che hanno assessori, presidenti del consiglio, vicepresidenti del consiglio e assessori, insomma francamente siamo molto insoddisfatti. Francesco Ruscelli, segretario provinciale e aretino del partito democratico, non aveva nascosto l'amarezza e la delusione. Per la provincia di Arezzo infatti non c'è nessuna rappresentanza nella neoformata giunta Gianni, nonostante le oltre 14.500 preferenze ottenute da Vincenzo Ceccarelli e le oltre 7.000 di Lucia De Robertis. Sulle polemiche adesso è intervenuto lo stesso governatore della regione toscana. Devo dire che il più votato del partito democratico ad Arezzo, Vincenzo Ceccarelli, ha un ruolo, questa volta non amministrativo di partito, ma che è il vertice della regione toscana, il capogruppo. Io per aver vissuto molto l'attività di consiglio regionale, per 5 anni ne sono stato il presidente del consiglio, vi posso dire che alla luce dei fatti un capogruppo conta più di un assessore. Devo dire che poi abbiamo Lucia De Robertis che andrà a assumere un'impostazione che è l'impostazione importante nel lavoro del consiglio della presidenza di una commissione. Io sono convinto che non è possibile dirlo oggi, sono convinto che questo darà molto tono. Però poi siamo seri, cerchiamo di guardare le cose nell'ottica del territorio. Cosa dovrei dire io, presidente della regione toscana, sul fatto che nel governo non abbiamo nemmeno un toscano? Noi però col governo ci lavoriamo bene e io devo dire che mi rapporto benissimo con il ministro Speranza, con cui ci sentiamo quasi quotidianamente, con il ministro Boccia che è il ministro delle regioni. Io non lamento che il governo non è attento alla Toscana. E gli aretini non lamenteranno che il governo regionale non è attento ad Arezzo, perché a me basta mi si chiami e mi si sollecita, Arezzo l'ho nel cuore e come vedete anche stamani sono qui.